Un progetto che riteniamo assolutamente all'avanguardia, che vede protagoniste le nostre imprese della regione Marche, del settore edile ed affini e in particolare il nostro territorio. Il nostro approccio rispetto ad azioni nelle zone terremotate riguarda non solo la ricostruzione urbanistico edilizia ma vuole essere anche un grande intervento di ricostruzione sociale ed economica del tessuto di questi territori. Pertanto ci muoveremo insieme in maniera sinergica, insieme alle amministrazioni locali dei territori, anche per la creazione di cooperative di comunità per sviluppare al meglio l'attività sociale e l'attività economica di questi territori. Quindi un progetto all'avanguardia, un progetto che ci vede insieme alle imprese e alla gente. Rimettiamo al centro l'uomo, rimettiamo al centro i nostri territori, rimettiamo al centro valori importanti che forse nel tempo sono stati dimenticati.